La mafia che ha ucciso Falcone e Borcellino non c'è più, l'abbiamo assicurata alla giustizia, ma c'è ancora una mafia che scorrompe, c'è una mafia che fa affari, c'è una mafia che sa creare complicità e convenienze, che riesce a raggiungere i propri obiettivi anche senza ricorrere alla violenza. E' a 25 anni dalla strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della sua scorta che la diocesi di Arezzo Cortone e Sansepolcro ha proposto un momento di riflessione sulle mafie di oggi, partendo proprio dalla loro complessa articolazione territoriale. Dobbiamo saper combattere questa mafia che non richiede solo magistrati e poliziotti, richiede un senso alto di cittadinanza da parte di ciascuno di noi, un forte senso di legalità, una capacità di chiudere il nostro mondo a quella mafia che invece ogni giorno sta penetrando e che non ha confini, non ha confini geografici, non ha confini di ambiti, di influenza e quindi non la neghiamo, cerchiamo di conoscerla, di capirla e di attrezzarci per combattere. Cosa deve fare la politica oggi? La politica deve sapere, deve essere consapevole che la mafia esiste perché la politica in qualche modo è complice. rompere ogni tipo di complicità significa anche sconfiggere la mafia. La criminalità organizzata allunga i suoi tentacoli in varie forme su tutto il paese. Nessuno può definirsi immune Toscana e provincia di Arezzo incluse, come ci ha ricordato la cronaca recente. La scorsa settimana è stato infatti sequestrato un albergo ad Anghiari che sarebbe stato acquistato con denaro proveniente da traffici illeciti legati all'andrangheta. In genere le mafie sono presenti dove c'è da gestire denaro e potere, in Toscana c'è molto da investire e le famiglie di Andrangheta che hanno tanti soldi provenienti dal traffico internazionale di cocaina se possono vengono qui a comprare perché è un buon investimento comprare in Toscana. Non solo attrae gli inglesi o i russi ma attrae anche l'andrangheta.